Giulia provvedi durante l'ultima puntata del GFV è stata informata del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini Lui replica sui social.Grande fratello VIP, Giulia provvedi tradita dal fidanzato? Durante l'ultima puntata del grande fratello VIP, Hilary Blasi ha chiamato Silvia provvedi, e l'ha informata dei gossip, che stanno circolando negli ultimi giorni sul fidanzato della sorella Secondo questi pare che Pierluigi Gollini abbia tradito Giulia provvedi.L'influencer Dejanira Marzano ha segnalato un comportamento poco rispettoso del giovane in una discoteca di Milano Non solo. Secondo le testimonianze lui si è messo il cappuccio, ed è uscito dal locale insieme ad una ragazza Silvia ha informato la sorella di tutto questo, e la sua reazione è stata molto forte Giulia provvedi in lacrime dopo il presunto tradimento del fidanzato.Giulia, appena la sorella le ha riportato gli articoli che sono stati pubblicati sulla vicenda, è scoppiata a piangere, e a camminare per il salone per calmarsi Non ha fatto nessuna dichiarazione.Anche Alfonso Signorini le ha consigliato di prendere tutto questo con le pinze e aspettare la replica del fidanzato, prima di arrivare a conclusioni affrettate Giulia provvedi, il messaggio del fidanzato su Instagram.Pierluigi Gollini è stato invitato da Ilari Blasi a intervenire nelle prossime puntate per spiegare che cosa è effettivamente successo, per dare la sua versione dei fatti Lui, però, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con questa scritta Giulia sei fortissima! Così come lo è il nostro amore? Ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti, io ti aspetto Chiuse virgolette.Un messaggio molto positivo, ma perché il ragazzo non ha mai commentato gli articoli che parlavano di lui, e non ha voluto intervenire in puntata? Lo farà nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip .